E questa è anche la missione che noi dobbiamo svolgere attraverso un'organizzazione che vi verrà raccontata dal nostro Maurizio Lupi. Come vedete la vecchiaia mi ha già catturato, ma ho parlato troppo ieri. 9 televisioni, 45 minuti l'una, più una radio e un telegiornale nazionale. Bene, allora ancora benvenuti a questa nostra prima riunione di lavoro nel segno della vittoria e nel segno della libertà. A te Angelina.